Salve a tutti amici, vediamo come risolvere l'enigma della torre della valle di Oldin. Enigma, più che altro non si apre la porta, ma noi dobbiamo attivare la mappa della regione. Come si fa? Allora, tendenzialmente, visto che il tizio ha detto che si potrebbe entrare da sotto, io cercavo una grotta. Ma non l'ho trovata. Invece, sempre girando intorno alla torre come sto facendo io, ho notato questo. A un certo punto vedrete una roccia cadere dal cielo. Eccola qui, in realtà mi sa che sono due. Comunque, raggiungiamola semplicemente. Andiamoci sopra e usiamo il reverto. Quindi il reverto riavolgerà il tempo, la roccia appena caduta tornerà verso l'alto e quindi ci basta arrivare a un'altezza minima, sopra la torre. Così va benissimo. Ora saltiamo e paravela. Anche troppo. Usiamola quindi e togliamola per andare giù più rapidamente, evitando così che ci vada via completamente il vigore. E adesso centriamo il buco. E di nuovo facciamo così, occhio a non schiantarci. Ed ecco che abbiamo raggiunto la base della torre. A questo punto usiamo il terminale e le porte si sbloccheranno. E ora possiamo registrare la regione. Un saluto. E ora possiamo registrare la regione.